Ora invece parliamo di collegamenti tra Caorle e Bibione, collegamenti che potrebbero portare però anche a Portogruaro numerose presenze turistiche e a quanto pare insomma queste presenze a Portogruaro mancano. Ne sentiamo il tutto, allora facciamo un po' di chiarezza nel servizio con l'intervista al consigliere comunale Mascherina. Io direi di no nel senso che ho visto anche il botta risposta tra vari operatori anche in questi giorni nei giornali, non direi che è proprio così. Forse manca invece quello di cui noi siamo convinti, una vera azione politica tra i comuni, tra l'entroterra e il mondo delle spiagge perché in realtà avremo noi un patrimonio immenso tutto attorno creando sinergie e forse quella lì è la volontà che veramente viene a mancare in questo momento. Un collegamento tra le spiagge appunto del portugarese, chiamiamole così Bibione, Carle e Labrussa che tra l'altro insieme sono la prima spiaggia dell'Adriatico, potrebbe risultare utile dunque a Portogruaro essere funzionale? No, io direi che dovrebbe essere basilare e sotto questo aspetto forse noi anche negli anni scorsi abbiamo accusato il comune di Portogruaro che ha perso ovviamente la leadership anche in molti altri settori, anche in questo ambito dovrebbe fare da capofila, capolinea, allineare, dialogare, cercare quegli accordi privato, pubblico, sinergie per provare a mettere in moto veramente un'offerta, un pacchetto che secondo me sarebbe veramente importante, veramente importante agli anni a venire darebbe molta linfa a questo territorio.